guardate qua guardate qua quante bolle sopra, sotto, di lato è perfetto passiamo adesso allo staglio e alla formatura io farò una formatura molto molto semplice proprio per tutti dunque, muniamoci di una bilancia con un piatto leggermente preoleato e mettiamo un po' d'olio sia sul ripiano potete usare anche la farina però vi consiglio l'olio perché con la farina rischiate di incorporarne troppa e poi non si chiude bene non tanto olio proprio uno straterello sottile guardate quante belle bolle non sono tantissime non deve bollificare troppo mettiamo, capovolgiamo il recipiente e aspettiamo che l'impasto cada l'impasto è direttamente preso dal frigo adesso io taglierò dei pezzi da circa 600 grammi perché farò tre teglie da 30x40 perfetto 620 grammi la nostra chiusura sarà veramente semplicissima ve la faccio vedere meglio mettendo qua l'impasto non dobbiamo fare altro che portare tutti i lembi al centro così dopo di che sigilliamo per lungo per bene così vedete vorrei farvelo vedere nella migliore maniera possibile si può fare anche così si oliano queste parti e si chiude così prendendo molto bene a questo punto capovolgiamo e chiudiamo basta mettiamo in un contenitore pre oleato con la chiusura verso il basso e continuiamo adesso chiudiamo tutti i contenitori adesso lasciamo i nostri contenitori a temperatura ambiente preferibilmente magari dove ci sono 22-24 gradi se avete questa possibilità a casa altrimenti va bene ovunque l'importante è che non li mettiate davanti a una finestra aperta altrimenti non li eviteranno mai i panetti dovranno lievitare fino a quasi al raddoppio ci vorrà qualche ora non tantissime attenzione ci potrebbero volere anche soltanto un paio d'ore dipende dalla temperatura di casa vostra chiaramente intanto potete o fare il condimento per esempio se avete deciso di fare uno sfincione con questo impasto io farò uno sfincione e due pizze una bianca e una rossa oppure niente oppure andate a fare un po' di shopping natalizio magari su Amazon a dopo allora siamo pronti per partire a stendere e a cuocere le pizze o lo sfincione io appunto comincerò dallo sfincione è bella raddoppiata la pasta quindi adesso passiamo alla stesura attenzione la ricetta tradizionale dello sfincione che a Palermo si consuma in grandi quantità tra Natale e Capodanno è un'altra e la potete trovare cliccando qui o qui questa è una ricetta contemporanea quindi è uno sfincione molto più bolloso all'interno e molto più leggero rispetto a quello tradizionale che invece prevede anche l'utilizzo di strutto qui non ne abbiamo usato strutto quindi è una variante con cui possiamo mangiarcene un pochettino di più cominciamo a stendere dunque per prima cosa oleiamo per bene una teglia questa è l'unica teglia non 30x40 questa è una 28x35 perché è la stessa quantità di sfincione la stessa quantità di pasta per una pizza che è sottile la userò per fare lo sfincione che invece deve venire più spesso quindi uso una teglia un po' più piccola per 600 grammi di pasta stendiamo bene anche i bordi ok mettiamo da parte adesso per la stesura in realtà lo sfincione tradizionale si stende direttamente sulla teglia noi invece lo stenderemo come se fosse una pizza così familiarizziamo anche su come si stende una pizza in teglia mettiamo tanta semola rimacinata parecchia guardate qua sul piano di lavoro facciamo cadere facciamo cadere l'impasto sulla semola così dopodiché mettiamo altra semola abbondante sulla superficie in questo modo facciamo un po' di spazio qua che ci serve dopodiché cominciamo a stendere con i polpastrelli non schiacciando totalmente dai bordi al centro dai bordi al centro ok riprendiamo la teglia la mettiamo qua svoltiamo la pizza sopra la mano la spolveriamo un po' e la mettiamo in teglia non vi preoccupate se si allarga un po' non succede niente la rimetteremo a posto subito togliamo la farina in eccesso altrimenti la teglia se la porta tutta sotto e la bruciamo e cominciamo a stendere non tocchiamo il centro allunghiamo soltanto i bordi cerchiamo di farlo tutto alla stessa altezza nello sfincione il bordo è bello deve essere bello consistente ok si stende praticamente da sola dobbiamo fare quasi nessuno sforzo perché è bella matura adesso mettiamo il nostro caciocavallo ragusano io ce l'ho stagionato mettiamo circa 100 grammi anche meno un'ottantina di grammi tagliato vedete a cubetti piccolini schiacciamo proprio leggermente il formaggio all'interno e mettiamo il nostro condimento condimento lo trovate nella ricetta che vi avevo indicato poco fa spalmiamo per bene il condimento senza però schiacciare troppo sulla pasta dobbiamo sporcare anche i bordi di sugo adesso dobbiamo spolverizzare un poco poco di pangrattato deve essere che vi posso dire due cucchiai da tavola in totale non più di tanto altrimenti si assorbe troppo il condimento facciamo un giro d'olio così anche qua saranno probabilmente due tre cucchiai da tavola al massimo e con un cucchiaio pulito schiacciamo leggermente così che il pangrattato si appiccichi alla salsa o all'olio e non bruci in cottura questo è importante altrimenti avremo un pangrattato carbonizzato se volete mettere una spolverata di parmigiano lo potete fare pure ma il caciocavallo ragusano è particolarmente saporito per cui evito adesso inforniamo 220-230 gradi forno statico 20-30 minuti sul ripiano medio-basso del forno se lo volete bello bruciato sopra date gli ultimi due minuti con la funzione grill aspettiamo ed eccolo qua pronto ha un odore favoloso adesso se volete gli potete mettere poco a poco di origano su così l'aroma sarà ancora migliore dopodiché lo dobbiamo mettere su una gradella sotto è bello cotto lasciamolo raffreddare un pochettino dopodiché lo tagliamo e ce lo mangiamo oppure lo facciamo raffreddare del tutto e lo mettiamo in freezer a pezzetti che è fantastico lo stesso lo sfincione si può mangiare anche il giorno dopo sarà ancora più buono passiamo alle pizze la prima delle due pizze che andrò a fare la farò soltanto rossa cioè non la condirò metterò soltanto il pomodoro perché perché la pre-cuocerò facendo finta che stiamo facendo tutto ciò tutta la cottura la stesura la cottura eccetera alle 4 del pomeriggio per esempio e poiché dovremo mangiare intorno alle 8 e mezza 9 noi possiamo pre-cuocere la pizza per pochi minuti senza diciamo cuocerla completamente come vedete non è cotta ancora è molto soffice ed è tutta ancora bianca non è croccante perché perché la vogliamo riscaldare poi stasera quindi stasera quindi la lasciamo adesso sulla gratella a raffreddare dopodiché la possiamo mettere in frigorifero fino a stasera stasera la mettiamo di nuovo in forno bello caldo a 220-230 gradi per circa 5 minuti la facciamo croccantizzare un pochettino la facciamo colorare un pochettino dopodiché la tiriamo fuori aggiungiamo la mozzarella il prosciutto i funghi i carciofi quello che volete quindi il condimento e la rimettiamo in forno per altri 5 minuti e adesso passiamo alla seconda pizza quindi il terzo contenitore dopo lo sfincione è la pizza rossa mettiamo semola facciamo scivolare delicatamente la pasta sulla semola con dell'altra semola ricopriamo e andiamo centro bordi centro bordi centro bordi perfetto prendiamo la teglia preoleata la mettiamo qua prendiamo un angolo giriamo svolveriamo e mettiamo in teglia e cominciamo a stenderla tiriamo i bordi non tiriamo il centro solo i bordi schiacciamo un po' i bordi qua se non vogliamo il bordo troppo alto se vogliamo il bordo alto lo lasciamo invece per com'è allora questa io la condirò con un condimento diverso dal solito un po' di mozzarella non tantissima diciamo una mezza una mezza palla di mozzarella ben scolata dopodichè ho preparato questa che sono due zucchine grattugiate grosse a cui ho aggiunto un pizzico di sale e l'ho lasciata in uno scolapasta per un'oretta in frigo dopodichè l'ho strizzata benissimo con le mani non deve essere acquosa altrimenti avremo una pizza praticamente tutta bagnata io personalmente aggiungo un altro poco poco di mozzarella sopra ma pochissima una passata di olio che saranno 2-3 cucchiai da tavola cuocete in forno statico con le resistenze accese sotto e sopra nel ripiano più basso del forno a 220-230 gradi per circa 15-20 minuti gli ultimi 5 minuti la dovete spostare però nel ripiano medio-alto così che sopra il bordo diventi croccantino naturalmente andateci un po' ad occhio perché a voi può piacere più oscura o più chiara e il vostro forno potrebbe essere diverso rispetto al mio e questa è pronta la condisco con un po' di mortadella e qualche goccina di pesto di pistacchio bella scrocchierella e questo è quanto io e le mie cornicchia da renna vi salutiamo e vi auguriamo buone feste buon Natale e ci vediamo l'anno prossimo l'anno prossimo